Quando vuole, Giussi Nicolini, sindaco di Lampedusa, è iniziata la normalizzazione per questa piccola, grande isola italiana? Ma Lampedusa, per la sua posizione geografica, essendo al centro del Mediterraneo, è stata meta di tantissimi migranti che qui sono sbarcati. In questo momento Mare Nostrum sta salvaguardando l'isola, i migranti vengono portati in Sicilia. L'isola in questo momento ha cominciato a respirare, ad essere meta di numerosi turisti. Questo è stato possibile grazie anche al grande lavoro svolto dall'esercito. Io mi auguro che questa decisione di allontanare l'esercito della Lampedusa possa auspicare una condizione di uscita dalla crisi nel Mediterraneo. Sono però convinta che in caso di necessità sicuramente tornerete. Quello che comunque mi interessa esternare è una profonda gratitudine per il lavoro che qui avete svolto, perché sono convinta che a Lampedusa l'esercito ha dato un esempio unico di come possano essere impiegate le forze armate in tempo di pace, per fini umanitari. Qui il ruolo umanitario svolto dall'esercito è stato importantissimo, è stato di grandissima aiuto alla comunità e anche alle istituzioni locali. E quindi la mia gratitudine è veramente infinita. Grazie sindaco, grazie tante, ma di cuore. Comandante, cosa vi portate via da Lampedusa, cosa è il significato Lampedusa per l'esercito italiano? Siamo abituati a lavorare con popoli stranieri e con nazionalità straniere. Qui l'abbiamo visto arrivare sull'isola. Arrivavano barconi e abbiamo visto le tragedie del personale arrivato dopo i naufragi, il naufragio del 3 ottobre. Un'esperienza toccante, un'esperienza che dopo averla fatta nei teatri più lontani ne abbiamo potuto fare qui, in Italia, per l'Italia, sul territorio nazionale. L'esercito se ne va da Lampedusa. Cosa rimane alla comunità di Lampedusa di questa presenza? Innanzitutto una grande tristezza perché hanno dato alla cittadinanza lampedusana un grandissimo contributo di umanità, di professionalità. E' un grande augurio per questi ragazzi che proseguono la loro attività e la certezza che la Repubblica italiana farà di tutto perché Lampedusa continua ad assolvere questa funzione di accoglienza dignitosa dell'emigrazione. Tanti anni di esercito a Lampedusa, in questi giorni se ne sta andando? Purtroppo sì, perché è stata una forma di sicurezza qua, non è indifferente, quindi è un peccato. Hanno fatto tanto per noi, sia per Lampedusa, che devo dire noi come piccola attività all'interno qua dell'isola. Abbiamo instaurato con loro un buonissimo rapporto. Quando vuoi? Un soldato italiano particolare perché comunque... dove sei nata? Marocco, a Casablanca. Nata a Casablanca, militare dell'esercito italiano, cosa significa stare a Lampedusa ed operare in un posto dove c'è tanta immigrazione? Operare in un posto come Lampedusa è stata un'esperienza unica dal punto di vista sia professionale che umano perché ho potuto operare con i migranti che venivano qui da situazioni comunque difficili e poi grazie all'addestramento che ho avuto dall'esercito italiano ho potuto affrontare queste esperienze nel miglior modo possibile come anche in missione all'estero o nell'ambito delle missioni internazionali. Cosa significa parlare arabo e conoscere la cultura di chi arriva qui? Loro come la prendevano? I migranti che arrivavano la prendevano in maniera comunque positiva vedere comunque un volto amichevole che comunque li ricordava le loro origini e si riuscivano anche ad aprire in maniera più spontanea, più tranquilla e sicuramente li rassicurava.